Ciao ragazzi, sono sempre io, Tuccio Lorenzo, qui su Tuccio TV, e oggi siamo qui per un nuovo video dove andremo a recensire un'altra Energy Drink. Ragazzi, preparatevi perché questa volta non vi porto la classica Energy Drink sconosciuta. Quest'oggi vi porto qualcosa che è davvero epico e sensazionale, ragazzi. Questo, ragazzi, questa sì che è una bestia. Stiamo parlando della Monster Ultra Red. Questa bevanda al gusto dei frutti rossi, davvero, è secondo me qualcosa di assurdo. Già la lattina, proprio a prima vista, guardate, promette bene questa qui, ragazzi. Perché, davvero, io sono senza parole, mezzo litro di concentrato puro. Dobbiamo assolutamente provarla. Io vi dico la verità. Ho già provato una Monster. Ragazzi, questa bevanda non è assolutamente da confondere con la sua sorella, Monster LH44, ovvero quella di Levis Armington, che è appunto una bevanda ideata, il suo onore, in quanto campione mondiale, se non sbaglio, sei volte di Formula 1. Quindi, davvero, gli hanno dedicato proprio una bevanda. E niente, questa qui è un'altra versione, appunto appartiene alla versione Ultra. Cioè, se non sbaglio, è anche la versione Ultra White e Ultra Cedro. Quindi, ci sono anche altre versioni di questa qui. Però, ragazzi, io ho preso questa. Mi è stato abbastanza difficile trovarla, perché non la si trova proprio dappertutto. Di solito, quelle reperibili sono la Monster Energy, la Ultra White, ma la Ultra Red non sempre la si trova. E davvero, è appena uscita dal frigo. Io la voglio degustare subito. Dovete comprendermi, ragazzi. Davvero. Ragazzi, che dire sul design di questa lattina? A primo impatto si nota quanto spacca. Infatti, oltre allo sfondo di questo bel rosso acceso, ci sono disegnati tutti questi motivi argentati che davvero sono bellissimi. Rendono il design della lattina una vera e propria opera d'arte. Non vorrei dire una cosa ambigua, ma toccando proprio la lattina si sente che al tatto è ruvida. Questa è una cosa, appunto, ideata da coloro che hanno, appunto, realizzato questa bevanda. Quindi la Monster è davvero, è bellissima. Poi ci sono, ovviamente, questi tre graffi qui, che sono il logo, appunto, e sono argentati, proprio a richiamare tutti i motivi qua intorno. Qua vediamo scritto Ultra Red, questa è Monster Energy. Qua c'è una piccola dedica, una piccola, chiamiamola, introduzione alla bevanda. Questa di solito la si trova in tutte le lattine Monster. E qua, invece, troviamo tutti i valori nutrizionali, gli ingredienti e le indicazioni, caso mai dovessero interessarci. La differenza dalle lattine che ho portato finora è che questa è da mezzo litro, quindi 500 ml. È il doppio, è più grande. È davvero, sono davvero curioso di provare questo mostro. Ragazzi, apriamo questa lattina. Sono veramente curioso di provarla, di assaggiarla. E vediamo. Poche parole per descrivere questa bevanda. Questo rosso, davvero molto, molto carino. Questo rosso ciliegia, chiamiamola così, la tonalità di questo fantastico colore. È molto invitante, si sente un odore intenso appena si apre la lattina. Devo dire che questa bevanda mi sta stupendo da ogni punto di vista, dal design proprio della lattina, dal colore della bevanda. Cioè, sono veramente curioso di assaggiarla. È davvero, come potete vedere, appunto, non è molto trasparente questa bevanda, non è molto limpida. Si nota proprio l'intensità del colore. Ebbene, ci resta solo una cosa da fare. Assaggiarla, ragazzi. Ragazzi, questa bevanda si prevede una bomba, davvero. Io sto morendo dentro. Ogni secondo che passa, a me viene voglia proprio di sorseggiare da questo bicchiere. Di assaporare delicatamente, piano piano, questa bevanda. Davvero, non devo berla, ragazzi. Devo berla. Ragazzi, a cosa dovrei paragonare questa bevanda? A niente. Se dovrei definire l'intensità, se dovrei metterla in scala da 1 a 10, questa è mille. Perché davvero, ragazzi, è molto intenso il gusto. Che davvero, si sentono proprio i frutti rossi, ma esplodere in una maniera assurda. Rilascia da primo all'ultimo momento una sensazione di freschezza, di intensità, dei sapori, che voi non potete immaginare. Ve la consiglio se amate fragola, ciliegia, lamponi, perché davvero, questa è una bomba. E pensare che avete mezzo litro, nel senso, non è la classica lattina da 250 ml, mezzo litro al prezzo, di 1,35 euro. Poi varia dai supermercati, nel senso, ad esempio, costa 1,09 euro, in altri costa, appunto, 90 centesimi. Dipende un po' dai supermercati, ecco. Però, appunto, vale tutti quanti i soldi, perché è davvero una bevanda ottima. Non c'è niente da dire su di essa. Infatti adesso me la bevo tutta quanta, quella che resta, e direi di passare ai saluti finali. Ragazzi, che ci crediate o meno, questa bevanda è ottima. È ottima, non c'è niente da dire. Davvero, appena mi è entrata in bocca, io lo sentivo, fin da quando ho toccato con mano quella lattina. Ci ho detto, questa sì che è una bomba. Come in generale tutti i prodotti Monster. Certo, ci sono alcuni che piacciono di più, alcuni che piacciono di meno. Ma in generale, questa azienda che produce Energy Drink, sa il fatto suo, sa produrre bevande veramente uniche e veramente ottime. Che devo dire, ragazzi? Io concludo qui. Mi raccomando, lasciate un like, commentate, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. E davvero, scrivete numerosi nei commenti quale altre Energy Drink volete che io porti. Perché davvero, sono veramente felice di portare questa serie dove vi mostro un po' i gusti e i sapori di tutte le bevande. Perché ve lo confesso, a me piace assaporare, valutare appunto in modo particolare cibi e bevande. In questo caso stiamo parlando di Energy Drink, qualcosa che vi piace particolarmente, che cerco di introdurre nella mia vita quotidiana con i diversi sapori, ragazzi. Noi ci becchiamo al prossimo video da Tuccio TV. Ciao!